Stavolta siamo invece con Gigi Di Palma, allora nel tuo palmarès ci sono grandissime squadre, però parlavamo prima, bellissima la vittoria qui a Monte di Procida. Sì, è stata una bellissima vittoria, sudata, tanti sacrifici fino all'ultimo giorno, però come tutte le cose che si ottengono con fatica, poi hanno un sapore migliore, anche perché qui c'è stata la possibilità di lavorare con tranquillità, con una grossa società, come ho già ribadito in un'altra occasione, e alla fine quando si lavora con tranquillità e con serietà i risultati vengono sempre. Qui abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione tutto quello che c'era bisogno per fare bene, incominciando dai magazzinieri, l'allenatore, il preparatore, tutto, l'infermeria attrezzatissima, per cui c'erano tutto per poter lavorare in santa pace e alla fine abbiamo avuto un bel risultato, inaspettato, ma un bel risultato. Tutti i presupposti per fare bene e alla fine si è fatto benissimo, direi. Si è fatto benissimo, intanto perché non eravamo partiti per vincere il campionato e quindi le squadre favorite erano altre, c'era la Sibilla, l'Ischia, l'Afro Napoli, la Sesta San Giuseppese, che è una gloriosa società. Il Monte di Procida è partito in sordina, abbiamo avuto qualche tentennamento all'inizio, però poi Ambrosino dall'alto della sua bravura ha saputo mettere insieme tutti i tasselli e quindi i risultati sono arrivati. Per la gioia della famiglia Manasco, dei tifosi del Monte di Procida e di noi che alla fine lavoriamo per ottenere questi risultati. Speriamo nell'anno prossimo che ci sarà un continuo a tutto questo, ce lo auguriamo. e niente, speriamo di portare un po' di gente in più allo stadio, che è la cosa importante. Noi ci mettiamo a tutto la buona volontà e il nostro lavoro. Speriamo che vengano anche i risultati. Dal tuo punto di vista qual è stato il giocatore più indisciplinato, indisciplinato tra virgolette, diciamo in modo scherzoso e divertente? No, io invece voglio sottolineare un ragazzo, a parte Palma che è scontato, insomma parlare di Palma, perché uno che fa il capocannoniere in questo girone all'età di 36 anni. Io invece tengo a sottolineare un ragazzo che mi ha entusiasmato in modo particolare, che è Lubrano, che è del Monte di Procida, io l'ho visto crescere giorno per giorno. Per me è un ragazzo che è migliorato tantissimo e sicuramente il futuro gli servirà sicuramente una qualche categoria in più. Tra l'altro lui non ha iniziato, inizio stagione con il Monte di Procida, è arrivato tardi però si è fatto notare. Non ha iniziato subito con noi però dal primo giorno che ha messo piede in campo, ha fatto capire subito quali erano le intenzioni, ha fatto bene Ambrosino a puntare su di lui e i risultati si sono visti, insomma, perché è stata una grossa sorpresa. E il suo gol all'ultimo minuto contro l'Ischia non ce lo dimenticheremo mai? No, 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 infatti questa è stata forse proprio la ciccina sulla torta, ma a parte il gol, secondo me è un grosso giocatore, è un grosso giocatore. La ringrazio, in bocca al lupo e speriamo ovviamente di godere di altri successi.